Salve a tutti, oggi parliamo di inflazione perché è questo il market mover più importante in questa fase sui mercati finanziari, anzi potremmo anche dire che per certi versi le borse sono in balia dell'andamento dell'inflazione, soprattutto delle aspettative sull'andamento dell'inflazione, soprattutto negli Stati Uniti ma anche chiaramente nell'eurozona. Ecco questo perché più aumentano le aspettative di inflazione più queste vanno a far salire i tassi delle obbligazioni che incorporano nel rendimento anche la porzione relativa alle aspettative e quindi più salgono i tassi delle obbligazioni più le borse in teoria tendono a soffrire proprio perché c'è più competizione sul fronte delle obbligazioni e quindi le obbligazioni diventano più attraenti e quindi in grado eventualmente di rappresentare una minaccia tra virgolette per le azioni. Dovete un po' ragionare e mettervi nei panni nei grandi fondi di investimento. Quando guardano alle borse chiaramente guardano soprattutto a un parametro che si chiama dividend yield che è sostanzialmente il rendimento espresso dai dividendi che vengono erogati dalle aziende quotate in borsa. Non tutte le aziende quotate in borsa danno dei dividendi però chiaramente a livello medio, a livello di paniere e c'è appunto questo dato che si chiama dividend yield e che rappresenta sostanzialmente in valori percentuali quanto è il rendimento medio delle dividendi cioè degli utili distribuiti dalle aziende agli azionisti in un determinato periodo espresso per l'appunto in termini percentuali. Ecco il dividend yield dell'S&P 500 in questo momento è intorno all'1,47%, in media è intorno al 2% poi chiaramente dipende anche e soprattutto dall'andamento dei titoli, dei prezzi dei titoli e più i titoli tendono a essere apprezzati più cala chiaramente questo rapporto perché si ottiene proprio facendo una divisione molto semplice tra prezzo di un titolo e il suo dividendo. La frazione in percentuale dà appunto il rendimento del dividendo in funzione di quel prezzo quindi più i prezzi delle azioni tendono a salire più a parità di dividendo distribuito il dividend yield tende a calare. In ogni caso in questo momento l'S&P 500 offre un dividend yield dell'1,47%. Quale è il rendimento dei competitor cioè delle obbligazioni americane in questo caso? A inizio anno i titoli di Stato americani a 10 anni tra i più importanti in questo momento presi come orizzonte temporale dagli investitori era inferiore all'1%. Adesso però proprio perché sta crescendo l'aspettativa di un aumento dell'inflazione questo tasso è arrivato fino all'1,4% nei giorni scorsi e quindi si è praticamente avvicinato quasi ha eguaiato il dividend yield dell'indice statunitense principale l'S&P 500 e quindi non c'è più in questo momento una grande differenza tra investire in azioni americane in ottica di ricevere un dividendo il cui rendimento è appunto l'1,47% e comprare un titolo di Stato a 10 anni. La grande differenza è che mentre investire in azioni certamente oltre al dividendo può dare anche un guadagno in termini di aumento dei prezzi quindi di capital gain e però può anche allo stesso tempo esporre un gestore al rischio che accada il fenomeno opposto cioè che i prezzi delle azioni scendano. In realtà per quanto riguarda il mercato obbligazionario questo rischio non c'è perché ci sono queste cedole e quindi queste cedole vengono poi regolarmente pagate e vanno a rappresentare un'entrata stabile nel portafoglio dei gestori. Quindi è chiaro che in questo momento le borse sono nervose perché i tassi stanno salendo a tal punto da aver raggiunto per quanto riguarda i titoli americani a 10 anni sostanzialmente il dividend yield della borsa americana e questo spiega chiaramente il nervosismo. Se poi osserviamo la curva a 30 anni cioè i rendimenti a 30 anni dei titoli americani questi sono oltre il 2% 2,2% in questa fase e quindi sono anche molto oltre rispetto al dividend yield della borsa americana. Quindi questi fattori stanno un po' facendo nervosire gli investitori e hanno fatto, hanno spinto alcuni gestori a vendere alcune azioni soprattutto quelle che avevano corso di più come quelle tecnologiche degli Stati Uniti eccetera dove vendendole poi si va a consolidare una forte plusvalenza e a trasferire una parte di questi capitali verso il mercato obbligazionario che inizia a dare dei rendimenti più attraenti. Ecco il punto a mio avviso chiave a questo punto da chiarire è se le aspettative di inflazione che in questo momento stanno salendo stanno salendo per motivi strutturali e ragionevolmente se questo fenomeno potrà quindi continuare per vari anni. Perché anche ieri il governatore della Federal Reserve Jerome Powell ha praticamente ricordato in un discorso tra le righe che chiaramente l'inflazione esprime una variazione percentuale dei prezzi ma in riferimento all'anno precedente. Quindi comunque è un confronto tra il livello dei prezzi in un momento e il livello dei prezzi in questo momento. Poi ci sono chiaramente le aspettative che vanno a fare lo stesso confronto. Però se adesso l'inflazione sta risalendo è anche perché sostanzialmente a marzo, aprile, c'è un anno fa era crollata, era crollata per il Covid perché in quel momento è scoppiata la pandemia, c'è stato il primo lockdown eccetera eccetera. Quindi è evidente che se si raffronta un momento storico come quello attuale di solo parziale lockdown e di ripresa dell'economia con un momento in cui tutto era stato bloccato, tutto era stato fermato un anno fa praticamente, è chiaro che è un confronto sbilanciato, è chiaro che l'inflazione di adesso in confronto a quella inesistente praticamente dello scorso anno, nei mesi di marzo, aprile, è chiaro che è in crescita. E quindi però bisognerà vedere se poi l'inflazione del 2022 in confronto a questo 2021 sarà ulteriormente in crescita e questo dipenderà dall'attecchimento nell'economia reale delle misure fiscali espansive che stanno adottando i vari governi, in particolare gli Stati Uniti che si apprestano a verare un altro piano monstro da 1900 miliardi. Quindi in questo momento l'inflazione sta aumentando, ma quasi sarebbe difficile il contare, ho visto che il raffronto si fa con un periodo in cui sostanzialmente eravamo tutti a casa, lockdown duro quasi a livello globale. Adesso invece le cose sono cambiate e quindi è ragionevole, è una conseguenza naturale che i prezzi stiano risalendo. Ma bisognerà vedere se i prezzi risaleranno anche negli anni successivi, quando il confronto sarà ad armi pari, tra virgolette, cioè con anni in cui l'economia riprende a girare. E a quel punto c'è un altro tema, a mio avviso, importante ad attirare in ballo nella discussione, ovvero le due anime dell'inflazione. L'inflazione è un po' come il colesterolo, cioè sia quella buona che quella cattiva. Diciamo che l'inflazione buona, quella sana, è motivata dall'aumento dei redditi e quindi un aumento dei redditi spinge poi la gente, i consumatori, a aumentare appunto gli acquisti e quindi i consumi. E quindi in questo caso i prezzi salgono per una ragione sana. C'è più ricchezza e quindi c'è più spesa e quindi l'economia gira in modo sano, salvo appunto che poi questo non crei dei eccessi di iperinflazione, di eccessi di consumo e quindi poi le banche centrali sono lì apposta per regolare come un termostato attraverso la politica monetaria i livelli di inflazione attesi. Per quanto riguarda invece la parte meno sana, la parte cattiva, veiva dal fatto che magari non aumentano i redditi ma aumentano comunque i prezzi dei beni perché aumentano i prezzi delle materie prime. Quindi le aziende devono necessariamente aumentare i prezzi dei beni che vendono perché hanno costi più alti in virtù dell'aumento dei prezzi delle materie prime per produrli. E quindi in questo caso c'è un effetto sicuramente negativo perché a parità di reddito un bene ci va a costare di più. Non perché l'economia ha preso girare quindi alla fine ci ha portato anche a guadagnare più redditi ma perché i prezzi delle materie prime sono aumentate. I prezzi delle materie prime in questo momento stanno aumentando e questo è un segnale in realtà positivo perché vuol dire che ci si aspetta una crescita dell'economia e quindi quando c'è un nuovo ciclo di crescita dell'economia i primi a muoversi dal punto di vista degli asset finanziari sono proprio le commodities, i prezzi delle materie prime. E quindi però bisognerà poi vedere se aumenteranno anche diciamo proporzionalmente i redditi in modo tale che non ci sia l'effetto di un'inflazione negativa, appunto la parte del colesterolo, quella che fa male. E quindi questo è un altro punto a mio avviso da mettere nel dibattito sul fatto che l'inflazione chiaramente se salirà innanzitutto a livello strutturale, quindi non soltanto quest'anno, e se allo stesso tempo salirà in modo sano, quindi anche attraverso una crescita dei redditi, oppure se salirà solo per la via malata, tra virgolette, quella dell'aumento delle materie prime. In ogni caso in questo momento le borse sono in una fase piuttosto nervosa, piuttosto delicata, proprio perché ci si chiede dal punto di vista di un gestore, di un investitore, appunto se e in che termini effettuare una sorta di conversione del portafoglio, cioè passare dalle azioni alle obbligazioni o soprattutto con quali proporzioni andare a fare eventualmente questo switch. E se lo chiedono giustamente, anche perché anticipare troppo i tempi potrebbe essere anche diciamo controproducenti, perché questo dobbiamo a questo punto analizzare come funziona il rendimento di un'obbligazione in rapporto al prezzo. Il prezzo di un'obbligazione e il rendimento vanno in direzione inversa, quindi più aumenta il prezzo, perché più aumenta la domanda verso quel titolo, appunto in questo caso obbligazionario, più il rendimento scende. Di conseguenza se oggi che ad esempio i treasury hanno un rendimento dell'1,3, 1,4, si comprano tanti treasury, se poi questi rendimenti salgono al 2% perché l'inflazione attesa dovesse dare ulteriori segnali di crescita eccetera eccetera, chi ha comprato oggi un treasury a 10 anni con un rendimento dell'1,3% a cui corrisponde un determinato prezzo, ipotizziamo 100, se poi quel rendimento sale al 2% il prezzo scende e scende, quindi uno compra un qualcosa a 100 e poi se lo ritrova a 95, a 90. Quindi se dovessero venderlo prima della scadenza, in questo caso stiamo parlando di 10 anni, si troverebbe in carico una minusvalenza. Sì, avrebbe sempre una cedola appunto corrispondente più o meno al tasso, in questo caso stiamo parlando dell'1,3%, ma chiaramente se dovesse vendere prima andrebbe a perderci sul capitale, sul prezzo che nel frattempo è sceso, nel frattempo è sceso perché i rendimenti sono saliti e quindi i nuovi titoli obbligazionari che vengono emessi, vengono emessi direttamente con delle cedole nuove al 2% e quindi più sicuramente attraenti rispetto a quelli che esprimevano, oggi esprimono un tasso del 1,3%. Quindi se si compra un titolo obbligazionario nella fase iniziale di un percorso di rialzo dei tassi, soprattutto a lunga scadenza, si rischia di avere delle perdite potenziali sul capitale, quindi di essere incastrati, tra virgolette, qualora lo si voglia per necessità o altri motivi di vendere prima. Chiaramente i gestori fanno dei ragionamenti un po' più complessi rispetto a quelli che può fare un piccolo risparmiatore, però la base è questa. Sostanzialmente quando i tassi salgano chiaramente le obbligazioni diventano più attraenti, ma l'ideale sarebbe acquistarle nel momento in cui il tasso ha completato il suo percorso di rialzo, piuttosto che nella fase iniziale, perché nella fase iniziale poi quando si è dentro si subisce una perdita sul prezzo. Chiaramente non sappiamo se i tassi dei titoli americani continueranno a salire e quale sarà la soglia di dolore, ovvero per le borse, cioè fino a che punto questo rialzo dei tassi potrà impensierire davvero l'investimento del mercato azionario. Per ora abbiamo visto un po' una sorta di correzione dagli eccessi di alcuni titoli, in particolare i titoli tecnologici, profittando di questo movimento appunto di rialzo dei tassi. Quindi alcuni gestori hanno sostanzialmente venduto alcuni titoli big del Nasdaq e hanno comprato un po' più di treasury in portafoglio. Non sappiamo se questo movimento proseguirà, ma chiaramente tutto dipenderà dalle aspettative dell'inflazione, ma non quelle, ripeto, da qui a un anno, ma delle aspettative nel medio-lungo periodo.